All'alba di questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Enna e Caltanissetta, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Enna, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti di quattro cittadini rumeni residenti a Caltanissetta. Gli arrestati sono Valentin Alin Matejok, 27 anni, Costantin Niti, di 25, Cesar Vasile Botezzato, di 34 e Gabriel V. Colmiai, di 25 anni. Sono tutti ritenuti responsabili del reate di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato e alla ricettazione. In particolare, l'articolata attività investigativa avviata e condotta in campo dai militari all'arma delle stazioni di Sperlinga e Villadoro, entrambe in provincia di Enna, ha consentito di individuare l'esistenza di un gruppo di individui di nazionalità rumena dedito alla commissione di furti di conduttori di energia elettrica in rame, furti in abitazione rurale, i quali, seguendo un modus operandi consolidato e ben organizzato, non riuscivano a sottrarre ingenti quantitativi di rame. L'operazione ha permesso di disarticolare una tra le bande più organizzate della Sicilia, dedite ai furti di rame, quest'ultimo diventato ormai un fenomeno criminale e dilagante di elevato allarme sociale, di recente evidenziato ad Agrigento dal ministro all'interno Angelino Alfano. Le indagini dei carabinieri, su direttive della Procura della Repubblica, tuttora proseguono al fine di accertare eventuali altre corresponsabilità. L'indagine, convenzionalmente denominata Cupro Predones, ovvero Predoni del Rame, nasce nel mese di dicembre del 2013 a seguito dell'arresto del cittadino rumeno Alexandro Bucio, 45 anni, sorpreso la notte tra il 7 e l'8 dicembre a bordo di una autovettura in sosta in una strada del piccolo centro abitato di Sperlinga. A bordo del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto attrezzi utili a tranciare cavi elettrici di rame. Successive indagini permettevano di accertare che poco prima in località emancipa del comune di Nicosia e contrada Cicera del comune di Sperlinga il bucio unitamente ad altri connazionali poi identificati negli arrestati avevano asportato dalla rete elettrica Enel 40 campate di filo elettrico in rame. Le attività investigative, svolte attraverso attività tecniche, pedinamenti e l'audizione di testimoni, ha consentito anche di far luce su altri due episodi di furto in abitazioni private che sono verificate nella stessa nottata in contata a Cannella nel comune di Nicosia commessi dagli stessi arrestati. L'elemento di maggior rilievo che con la presente indagine viene rilevato è l'esistenza di una organizzazione criminale composta da 13 persone tra rumeni ed italiani. Alcune posizioni sono al vaglio dell'autorità giudiziaria dedita ai furti di rame. Ci troviamo di fronte a un gruppo costituito da più soggetti che operano nell'ambito di una struttura a carattere stabile al fine di attuare un programma criminoso consistente nella commissione di dati contro il patrimonio e in particolare furti di rame in abitazioni private. Il capo e il promotore di questa organizzazione è il rumeno Metejuk. Quest'ultimo decide il luogo e la data in cui deve avvenire il furto che fornisce le direttive agli altri indagati su come comportarsi. Insomma è lui che provvede a remunerare gli altri complici che tiene i rapporti con i ricettatori della provincia di Messina per vendere il rame rubato a 4 euro al chilo. Gli altri associati sono perfettamente consapevoli dell'esistenza della consorteria criminale nonché dell'apporto dato da ciascuno all'attività delittuosa. Ciascuno dei componenti della banda, divisi addirittura in squadre come nell'esempio del 7 e 8 dicembre 2013, ha infatti un proprio ruolo determinato e collabora insieme agli altri nell'attività criminale. Il Buciu e Vicol hanno svolto il ruolo di autisti e di vedette avendo il compito anche di avvertire il capo banda in caso di arrivo delle forze dell'ordine. Il Niti e il Bodezzato sono quelli invece che si occupano di tagliare il rame, i veri professionisti del taglio, mentre gli altri collaborano nel caricare e trasportare il rame rubato. L'associazione può contare su altre compartecipe e diversi mezzi in caso di necessità. Gli accorgimenti adottati per evitare di essere sorprese alle forze dell'ordine denotano che il furto del 7 e 8 dicembre non era un episodio isolato. Tale circostanza conferma l'esistenza di un programma criminoso durevole nel tempo. Nel corso delle operazioni sono state anche sequestrate alcune autovetture ritenute provento dell'attività delittuosa. Si tratta di una BMW X5 3.000 diesel, un Chrysler Grand Voyager 2005 turbodiesel, una Fiat Bravo, una Lancia Tesis 2004 JTD, un Audi A6, una BMW Serie 5, un Audi A4 9 TDI, un Honda 600F Hornet, un Opel Tigra, un autocarro Fiat 35 e un autocarro Mercedes Sprinter.